AppFa Italia Meeting 2024, qui ai nostri microfoni Ruggiero Bertelli, professor Ruggiero Bertelli, professor all'Università di Siena, uno dei massimi esperti in Italia di finanza comportamentale. Troppo cortese. Non poteva mancare in un'edizione dell'AppFa Italia Meeting dedicata proprio alla finanza comportamentale. Sei appena concluso il suo intervento inaugurale con Giorgio De Rita, segretario generale del Censys, avete esaminato un po' il profilo del risparmiatore investitore italiano. Sembra di avere capito, gli italiani sono più orientati ai risparmi e meno agli investimenti, meno agli investimenti in lungo periodo, è così? Beh sì, pubblicamente l'italiano ha questa caratteristica, quella di risparmiare, anche se ultimamente i dati sono per una propensione al risparmio un pochino più bassa nella media, però il tema è che sicuramente noi mettiamo da parte perché non si sa mai. Questo mettere da parte perché non si sa mai, in qualche modo ci protegge, nel senso che poi quando accade qualcosa, ci autoassicuriamo, che come è noto, insomma, non è proprio molto efficiente come concetto, però lo facciamo, lo facciamo istintivamente. E questo è stato molto interessante perché chiaramente De Rita ha portato dei dati, ha portato, diciamo, il contributo del Censys a questo aspetto. Di qui, naturalmente, è venuto un po' di riflessione sul fatto che gli italiani grandi risparmiatori probabilmente dovrebbero imparare qualcos'altro. Dovrebbero anche investire. Eh beh sì, dovrebbero imparare a investire, quindi abbiamo questi italiani grandi risparmiatori che devono imparare a investire e qui la riflessione dal punto di vista della finanza comportamentale è duplice. Da un lato c'è il tema dell'investimento in quanto visione di lungo termine, perché un investimento ha senso solo nel lungo termine. Tutto il resto sono chiacchiere, in realtà vediamo solo la volatilità, non vediamo i risultati di un investimento. E questo vuol dire, ragionando alla Kahneman, diciamo, suggerire all'investitore, come fa Kahneman lo psicologo, di usare un framing ampio. Noi siamo portati a usare un framing ristretto, usare il framing ampio. Il framing ampio ci consente di avere dei benefici. Daniel Kahneman dice proprio nel libro, chi usa un framing ampio diventa più ricco. Il tempo lavora per noi. Ma sì, il tempo lavora per noi, il nostro comportamento diventa più disciplinante e più coerente. E allora ho citato anche un vecchio studio del 1988 di Sheffrin e Thaler, Thaler è il premio Nobel per l'economia nel 2017, che parla della behavioral life cycle hypothesis, dove si vede chiaramente che la nostra propensione al risparmio dipende da dove mettiamo i soldi. Cioè se mettiamo i soldi sul conto corrente, sul deposito, anche se li chiamiamo risparmio, in realtà sono a forte tentazione. Li spendiamo. Alla fine risparmiamo la metà di quello che risparmiamo se invece mettiamo i nostri soldi con un obiettivo di lungo termine, ad esempio la pensione, chiaramente, il benessere dei figli, l'eredità. Tutte, come dire, obiettivi di lungo termine che ci consentono di risparmiare di più, perché sentiamo i nostri soldi protetti contro noi stessi, contro le nostre tentazioni. E comunque sono vincolate a un obiettivo. Sono, ecco, dire vincolati è brutto, non suona bene. Sono messi da parte per un obiettivo, per raggiungere un obiettivo. Non c'è nessun vincolo. È semplicemente un impegno con noi stessi che in qualche modo è fortemente motivante. E quindi alla fine sono quelle profezie che si autorealizzano. Metto da parte dei soldi, li investo bene, li investo ovviamente in modo corretto e alla fine divento più ricco e matematico. Quindi mi sembra di capire che i consulenti finanziari italiani dovrebbero trasmettere questo concetto ai propri clienti. I consulenti finanziari italiani, tutte le volte che vedono un investitore, cioè tutti, con lo sguardo basso, cioè risparmia, compra il BTP, pensa insomma al breve termine, risponde alla domanda che orizzonte hai? Ah, breve, breve. Ecco, tutte le volte che si vedono queste cose il consulente deve, deve, è il suo mestiere, deve fargli alzare lo sguardo ad ogni costo. Quindi ad ogni costo, anche usando molta narrazione, molte storie, molta sicurezza, il risparmiatore ha bisogno di sentirsi dire cose che lo convincano, che la scelta che fa... Deve individuare degli obiettivi di vita del cliente. Sì, deve individuare gli obiettivi di vita, deve visualizzarli e in qualche modo poi deve fare, deve far sì che il risparmiatore investa per questi obiettivi, non risparmi per questi obiettivi, investa per questi obiettivi, che è il punto chiave del successo poi da questo punto di vista. Quindi sì, il consulente finanziario deve prendere... Deve educare il cliente verso questa strategia di lungo termine, verso degli obiettivi di lungo termine. Sì, educarlo a guardare sempre il lungo termine, sempre. Il breve termine l'eccezione e il lungo termine la regola. Sempre. Questo naturalmente il consulente finanziario lo sa bene, sposta l'investitore laddove è più possibile dare valore, che è l'altra cosa importante, perché se noi stiamo con gli investimenti a breve termine, con lo sguardo basso, è difficilissimo dare valore, è veramente impossibile dare valore. Se l'investitore guarda nel lungo termine, ecco che lì c'è valore e allora il valore viene fuori, viene fuori per l'investitore, ma viene fuori anche per il consulente finanziario. Professor Brateri, la ringrazio di questi suoi spunti e ancora buon app FAMiTING 2024. Grazie dell'attenzione, come sempre. Grazie.